buongiorno ragazzoli miei bentornati su mma italia se anche voi faticate a prendere sono la notte al pensiero di come evolverà la situazione dei pesi leggeri ufc nel 2021 siete dei nostri quindi rimanete collegati perché cercheremo di dare una risposta a questo quesito che dà grattacapi anche a fisici quantistici chi arriverà alla cintura nel 2021 e soprattutto chi combatterà nei prossimi mesi nella divisione pesi leggeri ufc iniziamo dal primo punto fisso che è quello dei ranking che sono aggiornati dopo l'incontro fra Dustin Poirier e Conor McGregor so benissimo che la UFC tratta i ranking come gli pare piace tirando la coperta da un lato o dall'altro a seconda di come gli convenga però ci torna utile per iniziare questa discussione ovviamente per comodità partiamo dal numero 6 ovvero Conor McGregor è proprio Conor è uscito malconcio da UFC 257 d'oltre la sconfitta c'è stata anche lo sberlefo il perculamento diciamo del mondo intero tranne i suoi tifosi con meme di ogni tipo Bernie Sanders la coperta chi più ne ha più ne metta e oltre a questo probabilmente avete visto anche i titoloni di tanti altri video canali youtube che dicono sospeso per sei mesi Conor di qua e di là in realtà come abbiamo già detto in precedenza si tratta di una sospensione medica legata all'infortunio alla gamba che può essere in qualsiasi momento annullata da un certificato medico qua Conor dopo l'incontro si vede giocare in maniera molto tenera sulla spiaggia con suo figlio con delle ruspe che farebbero invidia anche a Salvini il suo futuro da parte sua è chiaro nel senso che lui vuole la trilogia immediata contro Dustin per la cintura un incontro che sembra difficile fare perché l'opinione pubblica non è a favore dell'irlandese la sconfitta è stata molto netta e soprattutto ci sono tante altre opzioni se Conor non avesse subito il rematch per arrivare alla cintura avrà bisogno di almeno un'altra vittoria per rientrare nel mix come ha detto lui stesso e anche l'allenatore rimane aperta la possibilità del pugilato con un incontro contro Mani Pacquiao staremo a vedere e invece in quinta piazza c'è Tony e Cucui Ferguson che arriva da due brutte sconfitte l'ultima contro Oliveira che l'ha dominato anche a terra quella contro Gaeth in pay per view in cui in realtà aveva avuto un momento anche bello dopo questo uppercut rimane però in fase calante un fighter di grandissimo talento una leggenda dello sport che però ha 37 anni e nonostante i suoi allenamenti sempre molto pacati e assolutamente normali non sembra poter avere le credenziali per una title shot diretto quindi avrebbe molto senso un possibile incontro fra Tony e Conor considerando che il termine McNuggets che ha avuto grande successo è stato coniato probabilmente da questo signore qua che Tony e Conor hanno un passato travagliato soprattutto per questioni legate al management arrivano entrambi da una sconfitta quindi il vincente di questo possibile matchup potrebbe rilanciarsi immediatamente per la cintura e al quarto posto c'è proprio Michael Chandler che è stato intervistato ieri da Ariel Elwani insieme ad altri due top contender dei pesi leggeri Michael è quello più in ascesa nella top 5 UFC perché arriva da una grandissima vittoria contro Hooker sorprendente per certi versi parla benissimo ha subito pochissimi danni nell'ultimo incontro e quindi è pronto da subito a guadagnarsi su title shot non ci sarebbe assolutamente uno scandalo se gli venisse concesso immediatamente però Dustin non sembra intenzionato incontrarlo quindi lui stesso si è messo l'anima in pace e ha accettato l'invito della UFC per un incontro già nella prossima pay per view quindi a febbraio UFC 258 e l'avversario che gli era stato proposto era Oliveira che però ha detto di no quindi un altro indizio che ci fa capire quanto Chandler sia determinato e quanto spinga per combattere il prima possibile l'altra porta che si è aperta è quella che vede protagonisti Chandler e Gaethje e anche se dovremmo parlare per ordine del terzo nel ranking cioè di Oliveira preferisco introdurre subito il numero due cioè Justin Gaethje perché Chandler e Gaethje sembrano essere fatti l'uno per l'altro in questo momento ovvero sono entrambi pronti ad affrontarsi l'incontro ha senso anche Ali Abdelaziz ha detto siamo aperti a questo incontro Justin ha affrontato tanti ragazzi più tosti di Michael Chandler l'unica cosa che dovrebbe fare Chandler è limitare questo trash talk queste promozioni che ha fatto ultimamente quindi Ali con la solita simpatia apre la porta a Chandler per affrontare Justin Gaethje Justin ricordiamolo arriva dall'ultimo incontro che l'ha visto perdere al secondo round per sottomissione contro Habib Nurmagomedov quindi avrebbe senso vederlo alle prese prima con un incontro in top 5 di preparazione poi di nuovo eventualmente per il titolo qualora dovesse vincere e passiamo adesso proprio a Charles Oliveira che ieri è stato intervistato da Ariel Elwani insieme al traduttore un Oliveira qua in versione occhialuta che non sembra molto minaccioso ma l'abbiamo visto è un fighter molto completo pericoloso sia in piedi che a terra e a quanto pare non sembra interessato a valutare nessun avversario che non sia Dustin Poirier cioè vuole la cintura e vuole Poirier è un incontro che avrebbe molto senso perché Oliveira arriva da un filotto di vittoria impressionante ha dimostrato il suo valore e lo stesso Dustin si è dimostrato aperto questo incontro l'unico in top è che Oliveira non sia ancora dimostrato un nome in grado di portare grandi numeri alle pay per view e quindi dato che l'incontro titolato sarà sicuramente in pay per view ci potrebbe essere questo piccolo inghipo ma a livello tecnico cioè parlando da purista è l'incontro secondo me da fare cioè Dustin Poirier versus Charles Oliveira per la cintura e passiamo ora proprio a Dustin the Diamond Poirier che arriva da una grandissima vittoria contro Connor il nativo di Lafayette Louisiana si considera il campione anche senza cintura e si dice aperto a tre possibili incontri tutti e tre per la cintura il primo è una trilogia contro Connor il secondo è contro Nate Diaz e l'ultimo è contro Oliveira invece si è detto totalmente contrario un incontro con Chandler che secondo lui non ha dimostrato ancora nulla o dimostrato a sufficienza per avere il title shot la richiesta che ha fatto ed è molto chiara è di essere considerato come campione cioè non ha la cintura ma nel prossimo incontro se dovesse farsi per la cintura vuole avere i pay per view points ovvero una fetta d'introito della cifra raccolta dalle pay per view quindi si parla di varie centinaia di milioni soprattutto dal mercato americano questo ci fa capire perché Dustin spinga in parte per Connor sebbene dal punto di vista tecnico il discorso possa non quadrare del tutto anche se fattualmente sono uno a uno si capisce perché spinga anche per Nate Diaz che è considerato un draw cioè uno capace di fare i numeri nelle pay per view e spiega di meno perché sia pronta ad affrontare Oliveira in quel caso dice è solo un discorso tecnico Oliveira se l'è meritato e quindi potrebbe essere quello secondo me il giusto incontro per la cintura cioè Dustin vs Oliveira in tutto questo la figura che è più contraddittoria è proprio quella di Khabib nel senso che lui formalmente è ritirato quello vediamo scherzare nel recente incontro del cugino insieme a Daniel Cormier lui formalmente è ritirato però forse la UFC che continua a tenere aperta la questione perché è uno dei principali fighter della promotion ieri è venuta fuori la notizia di un possibile incontro fra Khabib e GSP da parte di Kenny Florian ex fighter UFC che dice di aver sentito un allenatore di GSP e che il canaldese si sta preparando proprio per affrontare il daguestano la notizia subito rimbalzata a destra manca ha fatto indurire i membri dei dei appassionati di MMA quelli più duri e puri ma in realtà non ci sarebbe nulla di vero come dimostra ad esempio il tweet di Ali Abdelaziz che è il manager di Khabib anche se inizialmente come vediamo ha pubblicato un tweet per il quale la voce sarebbe totalmente vera in realtà a quanto pare si è trattato di un lapsus perché il tweet è stato cancellato e poi sostituito da questo che dice l'esatto contrario insomma la questione aperta non si capisce bene perché speriamo che venga fatta chiarezza il prima possibile perché sta diventando un po stucchevole e con questo spero di aver fatto un po di chiarezza in tutta la faccenda che ricorda la trama arzigogolata di beautiful non c'è ancora nulla di definitivo e di vero quindi ditemi voi nei commenti come pensate debba evolvere la situazione chi vorreste vedere a combattere per la cintura dei leggeri lasciate mi piace iscrivetevi e ricordatevi che con ninja bet adesso potete addirittura godere di un bonus di 14 euro totalmente omaggio questa è una novità proprio di oggi grazie a una nuova promozione di william hill quindi spennate i bookmakers e aiutate il canale ciao